Puntuale ma ogni anno diverso torna domenica 19 febbraio il carnevale dei fighi di bocco ad animare e colorare le strade e le piazze di Castiglion Fibocchi. L'edizione 2017 del carnevale castiglionese la ventunesima nasce con l'obiettivo di trasformare una delle tradizioni storiche della città in un evento culturale di rilevanza nazionale legando i luoghi e i riti simbolo del carnevale al fascino tutto particolare della giostra del Saracino a cui sarà reso omaggio con una parata degli sbandieratori della città di Arezzo in occasione delle sfilate. Questo paese 21 anni fa come tutti i piccoli paesi andava a morire quindi durante il carnevale c'erano due o tre ragazzini che erano vestiti da zorri e basta e diciamo ci è venuta questa idea a tre o quattro donne del paese di fare degli abiti fantasiosi ma soprattutto la motivazione reale è stata quella di poter stare insieme la sera perché una volta nei paesi piccoli come il nostro si andava a veglia da una famiglia da un'altra famiglia e la sera quindi noi per uscire di casa abbiamo pensato bene di cominciare a fare questi abiti, cominciare a fare queste maschere e da lì da due maschere sono diventate quattro, da quattro sono diventate dieci, oggi sono 250 maschere. La sera ci troviamo, mangiamo magari la crostata, beviamo il bicchierino di Vinsanto e questo ci serve per stare insieme in allegria. Il carnevale è nato soprattutto per questo, per poter stare insieme.